Allora ragazzi, la settimana scorsa abbiamo parlato della resistenza e della lotta di liberazione. Qualcuno di voi si ricorda qual è l'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo? Dietro? Il 25 aprile 1945. No, Dietro. No, Dietro. Non importa perché insulti o prendi in giro qualcuno, per invidia, per scherzo o per una litigata. Pensa prima di scrivere. Grazie. 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 Grazie.